Buon pomeriggio e ben ritrovati con tutta l'ultima puntata di questo 1998 per quanto riguarda appunto il campionato cadetto. Ho subito 7 gol e sono veramente tanti. Bisogna analizzare anche come è venuta questa sconfitta. 20 minuti dalla fine il Napoli era riuscito a raggiungere. Si fanno sotto. La capolista nell'anticipo di sabato si fa bloccare sorprendentemente dal Chievo. Zero Zanchetta. Rigore di Oddo, Reia, Made, Viscidi, Guerini. Intanto Balestro si gode il suo primo punto.